La morte di Giuseppe Di Matteo fu uno sciocco per l'opinione pubblica italiana negli anni 90, prima di tutto perché si trattava di un ragazzino ucciso da Cosa Nostra e poi per le circostanze che furono rivelate della sua lunga e terribile prigionia, 779 giorni, del modo in cui fu ucciso e del modo in cui si liberarono del suo cadavere sciogliendolo nell'acido. Qui alle modalità tradizionali di Cosa Nostra si univa a qualcosa di diverso e di atrocemente unico che aveva più a che fare con l'esperienza dei campi di concentramento. Giuseppe era terribilmente prostrato nel corpo e nello spirito dalla lunga prigionia prima di essere ucciso. Dunque questa storia era particolarmente dolorosa e inaccettabile e fu dopo questa storia che Fabio Grassadonia ed io decidemmo di andarcene nella Sicilia e costruire altrove il nostro futuro. Erono anni in cui c'era una forte disillusione, una mancanza totale di speranza. Poi nel corso degli anni si è unito un altro dolore che è quello che la storia di Giuseppe era progressivamente dimenticata da tutti. Giuseppe è stato un bambino dimenticato in vita, circondato dall'indifferenza di tutti e poi dimenticato anche in morte. La sua storia a differenza di altre non era stata raccontata ed era dimenticata soprattutto dalle giovani generazioni. Erano in pochi a tenere vivo il suo ricordo come l'Associazione Libera di San Giuseppe Iato che gestisce il luogo in cui è stato ucciso Giuseppe e che ora è diventato una sorta di museo memoriale a lui dedicato, chiamato il Giardino della Memoria. Dunque sentivamo la necessità di raccontare questa storia e darla, passarla alle nuove generazioni, in qualche modo consegnare il testimone della memoria di Giuseppe a qualcuno che non aveva neanche conosciuto questa storia. Ed è proprio il fatto che grazie alle proiezioni scolastiche, il film Sicilia Angostori sia stato scoperto dai ragazzi delle scuole, dagli studenti, che è stato per noi motivo di grande gioia e soddisfazione.